Ciao a tutti ragazzi e ragazze, belli brutti e belle brutte, bentornati in un nuovissimo video sul canale Siamo tornati in un video per parlare delle offerte Black Friday che sta offrendo iMyPhone Per chi non conosce iMyPhone è ovviamente un'azienda che produce, fa software per il nostro computer Per far sì comunque che abbiamo sotto controllo i nostri dati, i nostri magari smartphone Grazie a questi programmi noi riusciamo per esempio a trasferire file dal nostro smartphone al nostro PC A effettuare backup o comunque in ogni caso magari ad aiutarci a ripristinare il software di uno smartphone A risolvere tantissimi problemi comunque legati ai nostri dispositivi Per chi ovviamente mi segue da tanto sa che nel canale ho già fatto tantissimi video su molti di questi programmi Quindi nella maggior parte dei programmi che andrò a citare in questo video ho già fatto sul canale dei tutorial Quindi vi lascio i link di tutti i tutorial che ho fatto su questi programmi in descrizione Bene ragazzi adesso possiamo andare a vedere tutte le offerte che offre MyPhone Allora ci sono innanzitutto tre piani di offerte Che dove voi potete scegliere quella ovviamente che fa al caso vostro Innanzitutto dura 10 giorni fino al 5 dicembre Quindi affrettatevi a acquistare i programmi in caso siete interessati Perché in ogni caso adesso c'è uno sconto davvero davvero conveniente Qui ragazzi per raggiungere questo sito dovete andare nel link e metterlo in descrizione Come vedete qua dura ben 10 giorni questo Black Friday di MyPhone E ci sono tre piani principali ovvero 5 dollari special offer Tilchiamo qui eccolo qua In poche parole ci permette di acquistare un programma a 5 dollari rispetto magari che a 20 dollari Per esempio c'è Umate iPhone Cleaner o MyPhone iTransfer Lite MyPhone iTransfer Lite ho già fatto un video sul canale ve lo lascio in descrizione Mentre su questo su Umate non ci ho fatto un video Comunque il primo piano di offerta è questo qua 5 dollari per acquistare un programma che invece negli altri giorni dell'anno costa 20 Quindi avrete il 75% di sconto Se decidete di acquistare Umate iPhone Cleaner Avrete la possibilità di aumentare la velocità del vostro iPhone, iPad, iPod Per esempio pulendo magari file spazzatura, pulendo il cache Eliminando magari file foto o video che sono ripetuti quindi dei doppioni Ecco qui infatti manage video Vi permetterà anche di salvare video ed eliminarli dal vostro telefono In modo da aumentare anche la memoria Quindi di effettuare anche del backup E per lo più un software dedicato agli smartphone di tipo iOS Quindi questo è Umate iPhone Cleaner Per quanto riguarda iMyPhone iTransfer Lite È un programma che ho già fatto un video sul canale Permette di trasferire interi file da iPhone Compresi i contatti, tutte le chatte di WhatsApp Al computer per effettuare dei backup E in questo caso anche aumentare ovviamente la capacità La memoria del vostro iPhone Quindi permette in poche parole di gestire i nostri file Trasferire i nostri file da telefono al computer In modo da aumentare la memoria E anche gestire i nostri backup In modo tale che se perdiamo i nostri dati Possiamo recuperarli facilmente con questo programma Grazie ai backup presalvati Questo è il primo piano di offerta Ovvero poter acquistare il programma a 5 dollari Invece che al solito costo di 20 dollari Secondo piano Il secondo piano permette di acquistare un programma Al suo prezzo pieno E di riceverne praticamente un altro programma gratis Vi sono ovviamente tre piani principali Quindi ragazzi il secondo piano di offerta invece Permette di acquistare un programma al suo prezzo pieno E poi di riceverne un altro gratuito Per esempio acquistando iMyPhone LockWiper iOS Riceverete gratuitamente iMyPhone TunesMate Che vuol dire che se il primo programma viene 109 dollari Aggiunto al secondo che viene 99 dollari Pagerete in totale circa 200 dollari Con questa offerta pagherete soltanto 59 dollari Con un totale di 149 dollari risparmiati Quindi se in totale avreste dovuto pagare 200 dollari Pagerete soltanto 60 dollari Quindi davvero questa è un'offerta che non si deve perdere Per chi ovviamente utilizza questi programmi E gli servono anche perché magari non si ricorda le password Non si ricorda comunque password di account Quindi proprio iMyPhone LockWiper permette di rimuovere per esempio la password dell'Apple ID Molte volte succede che ce la dimentichiamo Di rimuovere anche le password del lock screen Quindi del nostro blocco schermo del nostro iPhone Mentre iMyPhone Usmate permette di trasferire musica, file in generale Da nostro dispositivo iOS ad iTunes o al nostro PC Senza ovviamente nessun danneggio riguardo appunto ai file Quindi è l'accoppiata di questi due programmi che fa veramente la differenza Perché vi permette di effettuare tutto ciò che fate sul vostro iPhone davvero con facilità Quindi questa è un'accoppiata che riguarda principalmente gli iPhone Al costo di 60 dollari invece di 200 dollari Seconda accoppiata riguarda iMyPhone di Back e iMyPhone iTransfer Beh ragazzi sul secondo ci ho già fatto un video sul canale IMyPhone iTransfer lo lascio in descrizione E la migliore alternativa ad iTunes permette praticamente di effettuare backup agli iPhone E di effettuare anche il ripristino di backup sull'iPhone Ovviamente non solo iPhone ma anche iPad Quindi questo per quanto riguarda iMyPhone iTransfer Per quanto riguarda iMyPhone di Back Permette di recuperare qualsiasi messaggio perso Qualsiasi foto, qualsiasi contatto Anche le chat di WhatsApp Quindi permette di recuperare tutti questi dati Per lo più chat e WhatsApp sono quelle più ambite Sia per quanto riguarda iPhone che iPad che iPod Ovviamente il primo verrebbe sui 109 dollari Il secondo sui 69 dollari Con un totale circa di 180 dollari Con questa offerta risparmierete circa 109 dollari Perché pagherete entrambi i due programmi 69 dollari Quindi alla fine è un'offerta davvero conveniente Per chi nella maggior parte dei casi cambia telefono abbastanza di frequente E quindi deve recuperare i dati O magari in molti casi perde i dati Perché subisce magari dei danni al proprio telefono Nel caso appunto rompe il proprio telefono O il telefono stesso comunque subisce dei danni Questi programmi sono fatti apposta per questi tipi di problemi Andate a comprare D-back E ottenete gratuitamente un programma Che permette il backup del nostro iPhone O anche il ripristino del backup In modo tale di avere i nostri dati nuovamente sul nostro iPhone Dopo alcuni danni o qualche perdita Ultimo piano riguardo il secondo tipo di offerte Che ci presenta iMyPhone E' praticamente di comprare iMyPhone Fixpo E di ricevere gratuitamente iMyPhone TunesMate Che è un programma che permette di trasferire musica e video file Da praticamente il nostro dispositivo iOS al nostro PC In poche parole questo è lo stesso programma che ho detto prima Per quanto riguarda iMyPhone Fixpo Ci ho già fatto un video sul mio canale Permette di riparare il nostro sistema operativo iOS Quindi come è successo tempo fa Con quel carattere indiano che mandava in palla il nostro dispositivo iOS Con questo programma permette di scaricare la versione del software Precedente a quella aggiornato In modo tale da ripristinare il nostro iPhone alla normalità Infatti in questo caso se io avessi avuto questo programma Quando è successo anche a me che i miei amici mi hanno inviato appunto il carattere indiano Io ho perso completamente il mio telefono Riuscendo a recuperare solamente dopo averlo attaccato ad iTunes Aver effettuato il ripristino e ho perso ovviamente i miei dati Avendo invece questo programma avrei scaricato la versione precedente del software L'avrei installata e non avrei perso nulla E praticamente il mio dispositivo iOS sarebbe tornato alla normalità Quindi veramente molto utile a mio iPhone fixpo Vi lascio anche il link in descrizione al mio video Quindi in totale il primo verrebbe 69 dollari Il secondo 99 dollari Per un totale praticamente di 170 dollari Lo pagherete circa 49 dollari Quindi alla fine sono circa 50 euro Con un totale di 119 dollari risparmiati Quindi in questo caso risparmierete davvero un sacco E sono veramente importanti appunto per queste occasioni E quindi ve li consiglio vivamente Ok adesso passiamo al terzo piano di offerta Che ci offre i miei phone per il break friday Ovvero ottenere fino al 65% di sconto per un programma In poche parole dovremmo andare a comprare un programma Inserire il coupon che ci viene dato Cliccato appunto qui su copy Per avere il 65% di sconto Avendo il 65% di sconto Noi compriamo il programma davvero A un prezzo minore di quello che realmente costa E in modo tale Non avremo soltanto comprato il programma Ma anche avremo la licenza di utilizzo completo di quel programma Quindi avremo tutte le funzionalità sbloccate Ragazzi questi sono tutti i programmi Che sono in offerta sul sito i miei phone Quindi abbiamo i miei phone lock wiper Lock wiper per android Questo è per iOS I miei phone di back Li ho già spiegati tutti Durante praticamente la spiegazione delle varie offerte di questo video Vi lascio tutti i link dei programmi Che ho già recensito in descrizione Quindi magari per chi vuole imparare a usarli Ci sono già i miei video Magari per chi invece vuole comprare Un programma singolarmente C'è anche questa pagina Che è sempre quella continuativa Scendendo verso il basso Che permette di comprare i programmi singolarmente Quindi volete comprare soltanto magari i miei phone u mate pro Andate su questa schermata e verrebbe 29 dollari in totale Io ovviamente vi consiglio di aderire a queste offerte Perché permette praticamente di avere due programmi Pagandone soltanto uno solo Bene ragazzi io direi di tornare alla schermata principale Come vedete qui c'è un countdown che ci dimostra quanto dureranno queste offerte Quindi circa 10 giorni e termineranno il 5 di dicembre Quindi sono già iniziate Io vi invito ad affrettarvi a correre sul sito Per comprare quello che vi serve Quindi avete capito cosa tratta i miei phone Tratta di questi programmi che ci aiutano nella nostra esperienza quotidiana Nei nostri dispositivi Per quanto riguarda sia pc Per quanto riguarda i nostri ipad Per quanto riguarda i nostri iphone E i nostri smartphone android Spero di essere stato il più chiaro possibile Di non aver fatto confusione E per questo video è tutto Ci vediamo in un prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti